Ben ritrovati, ci sono tante emergenze in Campania nel dopo lockdown, dalla crisi nel mondo del lavoro alle morti bianche, al dramma che riesplode dei migranti, alle polemiche che si registrano per quanto riguarda le multe, le norme anti-Covid. Di questo parleremo oggi con Franco Fiordellisi, che è il segretario provinciale della CGL di Avellino, ben ritrovato, grazie come sempre per la disponibilità. Allora, il dopo Covid, che cosa sta accadendo, Fiordellisi, perché insomma nel mondo del lavoro le imprese non riescono ancora a rimettersi pienamente in moto, insomma qual è lo scenario che dal vostro osservatorio viene fuori? Ma lei dice dopo Covid, noi diciamo fase 3 Covid, perché anche a parte i vari focolai che ci sono ancora, o comunque delle criticità che ci sono in Campania, noi avvertiamo una grossa difficoltà, che c'è una certa ripresa dopo il lockdown, questo sì, però continuano a esserci delle limitazioni enormi, perché se noi pensiamo all'export che avevamo, di tanti prodotti italiani che sono stati un cardine importante anche della nostra economia, che in questo momento continuano a soffrire, per cui ci sarà e c'è necessità di definire cosa vogliamo fare oggi per definire il nostro futuro. Se oggi, dopo tante parole, in questi ultimi quattro mesi, non definiamo bene i nuovi percorsi, le nuove proposte a livello sociale, economico e di attività, significa che noi avremo fatto male e sarà anche peggio per il prossimo futuro, considerando anche, ripeto, la ridefinizione di alcuni settori, come può essere la mobilità, quindi il trasporto agherio anziché il trasporto pubblico, come potranno essere una serie di attività, di relazioni nel pubblico, sono tutte attività, il turismo, che tipo di azioni noi vogliamo mettere in campo per rilanciare con forza l'economia, quindi siamo nel pieno di una crisi economica, non più sanitaria, ma sicuramente nel pieno di una crisi economica. Siamo passati, come diceva, dall'emergenza sanitaria, che in qualche modo resiste in alcuni ambienti, dall'emergenza economica. Che autunno dobbiamo aspettarci? Perché, si era detto, non sarà perso nessun posto di lavoro, però in molti sono già a casa e si continua con la cassa integrazione. Allora, anche gli ultimi dati, ora verifichiamo, stiamo ragionando a livello nazionale con le strutture, sia col Ministro Catalfo che col Ministro Gualtieri, oltre che Patuanelli, che sarebbero il Ministro del Lavoro, il Ministro dell'Economia e il Ministro dell'Industria. Cerchiamo di capirci, noi abbiamo chiesto di nuovo una verifica sulle casse integrazione, di prorogare il periodo di cassa integrazione, ma per le aziende e i settori oggettivamente colpiti dall'emergenza sanitaria e quindi anche dalla crisi che si è determinata per le cose che dicevo prima. Per cui è fondamentale dal nostro punto di vista di prorogare ulteriormente, fino a fine anno, almeno degli ammortizzatori sociali in grado di dare delle risposte a quelle aziende che intenderanno mantenere l'occupazione e riorganizzare la propria produzione. In questo momento viviamo un dramma che ci sono moltissime piccole imprese, penso gli artigiani che hanno un fondo particolare e che non è stato alimentato, servono 500 milioni anche per mantenere le piccole e medie imprese. Servono una serie di investimenti mirati affinché si eviti la perdita di posto di lavoro e quindi di competenze in settori che sono stati sempre e comunque strategici per l'Italia. Faccio l'esempio, la Corneliani di Mantova che è venuta agli onori della cronaca, lo Stato ha deciso di intervenire quando dei privati che erano azionisti non volevano investire. Il Ministero ha deciso di mettere su delle risorse, l'esempio potrebbe essere anche IA, per mantenere un know-how importante. Noi pensiamo che in questo modo lo Stato possa intervenire, riorganizzare determinati meccanismi e aiutare praticamente sia l'occupazione che l'economia in questo modo. Intanto la crisi che si registra nel mondo del lavoro non ha fermato il triste fenomeno delle morti bianche, anzi questa catena tragica sembra essere addirittura in aumento. Come se lo spiega? Perché si continua a morire sul lavoro come accadeva 50 anni fa cadendo da un'impalcatura. Guardi, proprio l'altro ieri c'è stata l'ennesima morte che ci colpisce molto di un lavoratore 59enne che era su un'impalcatura. Cominciamo da questo, dovremmo ridefinire per la tutela dei lavoratori e delle lavoratrici quali sono le attività usuranti e che tipo di attività hanno estremamente pericolosi, arrivata ad una certa età con 40 gradi nelle 4 del pomeriggio, di immaginare che cosa si può fare in determinate condizioni. Questo sarebbe già una cosa fondamentale e importante, va a chi è staglienti e alle imprese di avere questo tipo di sensibilità. Dopodiché noi temiamo che dopo il lockdown sia le imprese che i lavoratori che erano precari, come in edilizia, come in agricoltura o anche nell'ambito dei rider, si accetti una sorta di sfida per riprendere il lavoro per cui c'è una sorta di esagerazione nel voler dimostrare nell'ambito dell'attività lavorativa. Quindi la ripresa dell'incidenza e degli infortuni, dei drammi, delle morti, il luogo di lavoro deve essere un meccanismo di formazione sia per le imprese ma anche per i lavoratori. Quindi noi temiamo che ci sia questo meccanismo mentale di riprendere il lavoro, di dimostrare che quel lavoro lo possono mantenere perché c'è sempre questa spada di Damocle del rischio di una ricaduta nell'emergenza sanitaria di persone che non avrebbero gli ammortizzatori sociali adeguati per poter vivere. Questo penso che sia il problema del perché c'è un'incidenza. Eppure anche la disattenzione. Secondo me dopo il lockdown tante morti in itinere, cioè persone che viaggiavano in macchina per andare a lavorare, considerando che il trasporto pubblico si è ridotto, in molti vanno in macchina a lavorare, c'è un aumento di persone che stanno sulla strada e forse anche disattenzione perché comunque questi 3-4 mesi secondo me hanno colpito a livello psicologico ai lavoratori. Certamente. Intanto tornando all'emergenza Covid, questo sarà sicuramente un tema al centro della campagna elettorale verso le prossime elezioni regionali, tema che peraltro rischia di essere anche strumentalizzato a giudicare dalle prime polemiche che abbiamo verificato. Ma qual è il giudizio del sindacato proprio rispetto alla gestione di questa emergenza sanitaria in Campania? Beh, è ambivalente. C'è necessariamente, come in tutta Italia, c'è stato il protagonismo di sindaci e governatori, anzi presidenti di regione. Un protagonismo che però dovrebbe ritrovare i canali istituzionali e democratici. Era necessario una serie di interventi, sono stati fatti, però io nei confronti che ho avuto con la prefettura, con l'ASL e con i manager della città ospedaliera per quanto mi riguarda nelle aree più interne c'è stata anche da un lato una fortuna e dal lato la sfortuna, perché continuo a ritenere che alcuni dirigenti messi lì dalla politica nel dover gestire alcune cose, ma anche alcune figure intermedie, non hanno ben compreso che cosa stavamo attraversando. Quindi, ripeto, da un lato c'è stata questa volontà da parte di chi governava di dire attenzione, attenzione, ma sono stati soprattutto i cittadini che hanno dato delle risposte adeguate. Lei immagina dentro le case popolari, in spazi angusti, persone che sono state lì e hanno rispettato le regole, voi per paura, voi per altro. Ma non mi è sembrato che in alcuni contesti sanitari, anche delle aree interne, ci sia stata la stessa percezione, la stessa sensibilità. Quindi è un misto tra responsabilità dei lavoratori e responsabilità di alcuni amministratori, responsabilità dei cittadini, ma anche abbastanza una buona dose di fortuna. A proposito di emergenza Covid, sembra dal punto di vista sociale aumentato un sentimento di intolleranza, una sorta di caccia all'untore. Lo abbiamo visto ad esempio in Irpinia per gli abitanti di Ariano, che sono stati fortemente discriminati. La stessa cosa si registra per la verità, facevamo riferimento al dramma dei migranti per quanto riguarda gli stranieri. Qual è la sua valutazione? Beh, questo virus, e perciò dicevo attenzione a quello che faremo, perché quello che determineremo oggi in economia e nella società sarà il nostro futuro. Il problema di questa emergenza sanitaria è che, essendo un virus che si aerotrasporta, oltre a sedimentarsi su alcune parti, tu non hai, come dire, l'infezione che si deriva da un contatto diretto, ma anche appunto il distanziamento sociale è un ridisegnare alcune modalità che tutti noi abbiamo, quindi quella socialità, quello stare insieme. E questo cosa determina dal mio punto di vista? A livello psicologico crea ansia, crea panico. E se io già tra di noi che ci conosciamo cominciamo ad avere dei dubbi perché quello è il problema, immaginiamoci cosa accade quando ci sono delle aree che vengono definite focolai, o che vengono definite zone rosse, oppure come Giaghera, perché un razzismo di fondo c'è sempre stato anche da queste parti, rispetto a una persona che è di colore e di pelle diverso, non sai nemmeno se è nato in Italia o viene da un'altra parte, e quindi hai questa paura assurda che va studiata socialmente e antropologicamente, ma io temo molto, temo molto che noi anziché di usare le pratiche del distanziamento sociale, di pulirci sistematicamente le mani e di utilizzare la mascherina in maniera adeguata, pensiamo che ci possa risolvere il problema solamente isolandoci, isolandoci da tutto il mondo. Sarebbe la fine della società, sarebbe la fine anche di pezzi di economia, le dicevo prima, il turismo, la mobilità e quant'altro. Per cui ci vuole sicuramente accortezza, ma la dobbiamo smettere di immaginare che chi non conosciamo possa essere l'untora. Certamente, insomma il virus dell'intolleranza rischia di fare più danni dello stesso Covid. Tornando alla questione di carattere economico, ci sono state polemiche anche per quanto riguarda le multe decise dal governatore De Luca per i commercianti che ne indossano la mascherina, secondo De Magistris si è trattato solo di propaganda elettorale. Appunto torniamo al rischio che anche l'emergenza sanitaria venga in qualche modo strumentalizzata per fini politici. Ma qual è la vostra valutazione rispetto anche alle misure varate dal governo regionale per far uscire le piccole imprese da questa situazione di difficoltà? Ci sono stati una serie di bonus, partiamo dai bonus. Fin quando si era in piena emergenza e il lockdown avevano un senso, ora questa indistinta pioggia non fa più bene. Noi dobbiamo indirizzare e avere progetti concreti per affrontare quello che ci ha determinato, ripeto, l'emergenza sanitaria, quello che ha modificato l'emergenza sanitaria, altrimenti tanti microinterventi a spot, diciamo, a pioggerellina non ci aiutano. Tieni un grande progetto, poi fai una serie di interventi per aiutare, altrimenti non va bene. Per quanto riguarda le multe, le multe qua si capisce, se tu fai l'intervento spot con una serie di soldini che vieni date, che dai ai cittadini, alle imprese, allora fai la multa perché è l'unica cosa che sembra capire il cittadino. Cioè se gli fai la multa sembra capire e deve stare attento. Ma non mi convince molto perché in questo momento, come bravi siamo stati prima, adesso si chiede a tanti soggetti commerciali di essere loro stessi, come dire, i controllori. Fino a un certo punto va bene, dopodiché ne serve che il messaggio deve essere univoco. Tenga presente che lo stesso soggetto che oggi fa e pone e mette le multe diceva che noi era tutto a posto e si poteva andare a votare tranquillamente. Ma sono così tanti politici che stanno dando messaggi contrastanti ai cittadini. Questo non va bene, non va bene. O c'è una linearità nell'impostazione, noi non abbiamo il vaccino per cui dobbiamo stare tutti attenti e come organizzazione sindacale chiediamo protocolli di sicurezza e protocolli di intesa che devono essere vincolanti per tutti. O il governatore, il presidente De Luca, ancorché candidato anche alle prossime, capisce questa cosa, lui insieme agli altri tre o quattro candidati per vedere come dobbiamo affrontare questa situazione, altrimenti la Campania che è sempre stata una regione importantissima per tutto il mezzogiorno, corre il rischio di arretrare irrimediabilmente. Con la speranza che arrivano i soldi dell'Europa, tutti si buttano su questi soldoni e non risolveremo nulla perché l'economia della catastrofe non darà le risposte adeguate a ognuno di noi. Speriamo che non sia così. Alla fine, per chiudere questa nostra intervista, Fiordellisi, guardando proprio a questa campagna elettorale così atipica che stiamo vivendo in piena estate per le regionali, da questo confronto che cosa vi aspettate? Soprattutto che tipo di impegni chiedete ai candidati governatori. Allora, l'abbiamo detto prima, una vera e concreta partecipazione delle organizzazioni di vario genere. Avere una visione sulle infrastrutture sociali, che significa sanità, scuola e welfare, e avere una visione euro-mediterranea per quello che dovranno essere per le aree interne. O facciamo dei progetti concreti, veri e non come è stato per il terremoto, che sono arrivati i soldi e la risposta è che noi teniamo tutte le aree interne abbandonate a se stesse, senza lavoro. Se diamo questo tipo di risposte sarà una cosa positiva. Insisto col dire, quello che determineremo oggi e che determineranno i candidati per le aree interne, per la campagna e per il mezzogiorno, ne va delle prossime generazioni, per giovani e donne in particolare. O le fanno bene queste cose in collaborazione, altrimenti è un'altra occasione, forse l'ultima, sprecata. Bene, speriamo che il suo mondito venga accolto dai candidati. Intanto ringraziamo Franco Fiordellisi, segretario generale della CGL di Avellino, che è stato nostro ospite. Grazie. Grazie come sempre in regia per noi Aldo Fenizia e ringrazio quanti ci hanno seguito. Arrivederci.